Ciao a tutti, oggi parleremo di piedi. Per avere piedi al top, soprattutto durante l'estate, occorre fare una buona pulizia, ossia andare a rinnovare la pelle e andare a eliminare le cellule morte con eventuali cagli e durroni che possono anche farci camminare male oppure darci problemi di postura se ci danno fastidio, se proprio ci fanno male anche con l'utilizzo delle scarpe. Questi calzini esfolianti sono a base di 7 tipi di acido ialuronico, acido glicolico manderico ma anche urea e hanno la proprietà di andare ad esfoliare in profondità la pelle eliminando cagli e durroni e screpolature. Sono dei calzini che vanno tagliati in mezzo, al suo interno contengono una crema, un siero, si applicano a piedi ben lavati e asciutti, si lasciano giro un'oretta, poi si levano, si sciacquano bene i piedi, poi si può applicare anche una crema che può essere la crema della stessa linea sempre con gli stessi principi attivi oppure un'altra crema sempre della stessa linea per screpolature oppure anche una crema da impacchi, una crema a mani e piedi sempre idratanti. Questi calzini vanno proprio ad esfoliare e l'esfoliazione avviene dopo all'incirca 5-7 giorni. Vi consiglio di non andare a togliere la pelle ma lasciare che si stacchi diciamo naturalmente. Va fatta prima dell'estate ma anche ogni qualvolta presenta screpolature o comunque parti dure.